Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nel Sacellum, ovvero nella cappellina interna del convento di San Giovanni Rotondo, qui i pellegrini non possono accedere, ci troviamo proprio nella clausura dei frati minori Cappuccini, in questo luogo lo ricordiamo spesso, qui Padre Pio per due anni interi è stato segregato, ovvero ha celebrato la messa da solo, oggi vogliamo raccontarvi, a questi indirizzi mail che vedete in sovraimpressione arrivano tante mail che raccontano le vostre storie, i vostri racconti, vogliamo raccontarvi la storia di Don Luigi, Don Luigi ci scrive e ci racconta la sua vita, ordinato l'8 settembre del 2012, la storia di un sacerdote diocesano nato a Gagliano del Capo nel 1985 nel cuore del Salento, genitori devoti, amorevoli, figlio maggiore, figlio di un ingegnere e di una maestra, il destino sembrava aver segnato la sua vita fin dai primi momenti, a soli venti mesi manifesta la sua prima crisi epilettica segnando l'inizio di un lungo calvario, sia per lui che per i suoi genitori, inizialmente la crisi non fu compresa ma la perseveranza, così l'amore anche materno non vacillarono mai. Il suo percorso verso la guarigione vide una serie di prove, diagnosticato un tumore al cervello, fu sottoposto ad un intervento chirurgico rischioso con il timore costante della paralisi degli arti inferiori, la sera prima dell'operazione la mamma fa un sogno, percorreva un tunnel, un tunnel nel buio, nel fondo c'era una luce, una forte luce, percorrendo questo tunnel seguendo un frate, un frate con il cappuccio, lui dice un frate incappucciato, ecco per tanto tempo la mamma ha pensato che si trattasse di San Francesco d'Assisi o di Sant'Antonio. Il giorno dell'intervento, subito dopo, il professore che aveva effettuato l'intervento chiama la mamma chiedendole quanta fede avesse, infatti il tumore invece di diffondersi si era circoscritto permettendo così ai chirurghi di rimuoverlo senza danneggiare alcun nervo, tessuto circostante, fu proprio il medico stesso a dire di essersi trattato di un vero e proprio miracolo. Questo percorso verso la guarigione non fu soltanto medico ma anche spirituale, infatti la presenza costante di questo frate cappuccino che porta conforto e anche Santini, racconta Luigi, che all'epoca era solo Luigi, non era Don Luigi, che poi lui conserverà in un cofanetto, si rivelò essere una figura di grande significato, infatti c'era forse il cappellano di questo ospedale che portava questi Santini, solo anni dopo, grazie ad un sogno della mamma e alla scoperta di una vecchia immagine di Padre Pio, tra quelle con cui lui ci giocava, e lui entra ancora più nel dettaglio, ci racconta che era la copertina di una rivista, Voce di Padre Pio, che portava proprio l'anno della sua, era il mese, anno della sua operazione, novembre 1989. Questa immagine fu fatta poi plastificare, incorniciare dalla famiglia, attualmente è proprio a casa sua. Da quel momento, racconta Don Luigi, quel bambino che ero sentì così la protezione e la guida di Padre Pio nella mia vita, e scrive, Padre Pio non mi ha mai abbandonato, ancora oggi io sento la sua protezione, sento di essere il suo bambino, vuole la mia collaborazione per portare avanti la sua missione fino alla fine del mondo. Oggi, parroco di un piccolo paesino del Salento, porta avanti quella missione che sente essere stata affidata a lui, consapevole di essere stato scelto per una ragione ancora più grande. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.